Sulla pianificazione sicuramente il nostro obiettivo era quello di rendere efficienti al massimo gli organici del punto vendita perché su un'azienda di 200 milioni di fatturato con 280 punti vendita l'investimento nel costo del lavoro è una voce importante del conto economico. Siamo riusciti attraverso Z-Scheduling a rendere omogeneo le regole di pianificazione all'interno del punto vendita, a renderle intelligenti e soprattutto ad orientare la cultura dello store manager nella pianificazione a gestire il costo come un investimento. Dalla parte di negozio poi ci siamo spostati naturalmente alla parte di gestione centrale del costo e abbiamo implementato il tool PagWeb. Quindi adesso pianificazione, gestione della presenza, chiusura di paghe all'interno del processo ci permette di ragionare in maniera integrata dalla parte di pianificazione alla parte di controllo del costo.